Bella a tutti da Porkmoz, eccoci qua in questa nuova gara, questa gara è stata creata da SergioGC Credo che è la prima volta che gioco una gara di Sergio Comunque nella miniatura ho visto una spirale fighissima ad alta velocità Infatti la gara si chiama, aspetta, facciamo prima la curvita Ultra Speed con la F1 Che meraviglia, andiamo, andiamo Belli veloci, si inizia a speed con un bel GP Facciamo attenzione, regà, perché è la prima carità della giornata Eh, Alberto, esci fuori, guarda lo impenna al sueno Ok, veloce, veloce sui Più veloce che puoi Non metrò là, eh, per favore Ok, ok Meno male che Alberto è un bravo sueno, regà Ok, non sui detroli, non trovo più alto Ok, facciamo attenzione con il barco lì Io rimango largo, eh Paletto Ok Dove, 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 dove No, ce la lascio, ce la lascio Ce la lascio, beh Ce la facciamo? Aspettate No, regà, non ce l'ho fatto, non ce l'ho io Bene Veramente una disgrazia, gioio, crede Ho provato a bloccarmi in aria, regà, però Non era possibile, che peccato Adesso rimanisco a un lato Ok Calcolate che c'era la scia per questo Non ce l'abbiamo fatta Ce la faremo ora? Sì, sì, sì Tutto, ok, dove siete, dove siete, dove sono Ah, piedi, dove? Di qua Allora, andiamo Dove siamo? Regà No Cosa devo fare? Non va da nessuna parte, regà Aspettate, respawniamo Ma sono l'unico che è rimasto buggato Non lo so Guardate, regà, ultimo gioio, crede Aspettate Oh, eccomi, eccomi qua, regà Questa è la parte che aveva messo pure Gabri Colboni di qua Sì, sì, sì Ci dobbiamo sbrigare, regà Bello veloce, sui Come fregano tutte le prime rencioio, crede Che gara strana, allora Cioè, sia parkurito E sia queste parti strane Andiamo, andiamo Bello veloce, sui Ok Dove sono gli altri? Il primo è Fede Bugatti? Ho preso un check, però No, no, non dobbiamo respawnare Dobbiamo proseguire Sì, sì Ok, ok Dai, sui Bello veloce Più veloce che poi Ma se tolgo la prima persona Ah, ok, ok Non può andare più veloce, regà No, questa è la massima velocità Scusate se faccio casino col joystick Dai veloce Veloce, sui Ok Ho preso un altro check Ah, dobbiamo respawnare Potevo respawnare anche prima Vediamo un po', regà Sì, sì, sì Ci siamo, ci siamo Dai, bello veloce Guardalo, Alberto Modder, primero Ok F1 Cerchiamo di fare belle traiettorie, regà Perché dobbiamo andare Veramente Ultra rapidi Turbo sui Turbo sui Veloce, veloce Qua cosa c'è Cosa c'è, regà Ok Ok, ok, regà Credo di aver capito Allora Respawniamo Dai, veloce, veloce Dobbiamo entrare tipo dentro quell'occhio, regà Spettacolare Però aspettate che devo capire Dove, sui Però c'è un turbo Ecco perché Ce l'hanno fatta gli altri Non lo so, regà Sì, 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 sì Bunny Aiuto Ok Dai, regà Perché non ce la faccio Madre mia Allora Ci riproviamo State tranquille No, regà No, no, no Che è che Si è trollato qua Non ce l'ho Io credo Ok Sei Ci siamo, regà Ultra veloci Wow, bella questa parte, regà Aiuto Facciamo attenzione Forse qua conveniva la prima persona Sapete Non ce capisco niente Forse siamo vivi Sì, sì Ci siamo, ci siamo È qui? E cambio, sui No, no, no Si può andare di qua Sì, sì Si può andare C'era anche Alberto Tra l'altro Oh mio Dio Siamo vivi Sì, sì Siamo vivi Ok, regà C'è qualcuno Che è bello Primero Mi dicono Olle Ok, regà Piccola interruzione Qui cosa bisogna fare? Dove? No, no, no Prima persona Aspettate Ok, dritti, dritti Avevo visto un pezzettino di Pista stanta, regà Allora Alberto ce l'ha fatto Ed è il primo Complimenti Arzulino, regà Però mi dispiace Dobbiamo recuperare Ehi, devo fregare La prima Rapposizione Cosa? Siamo vivi? Dove? Ok, ok Di qua Aspettate Aspettate Sui, sui, sui Facciamo attenzione No, no, no No, no, regà Ho sbagliato Aspettate Aspettate Un attimo Almeno Ripartiamo Tritti Crede Così Ce la possiamo Fare Sì, sì, sì Prima persona Albero Ole, ole Ci siamo Ci siamo Allora Belli veloci Alberto Ce l'ha fatta Comunque La gara è fantastica Quella spirale È meravigliosa Non volevo sparare Una miniatura Regà Ma non l'ho fatta in tempo Mannaggia a me Ok Se ero bello Primero Devo fermare un attimo Adesso vediamo Se c'è qualche altra parte Carina Per fare la miniatura Non fa niente Comunque Stiamo andando bene Sì, 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 sì Dai, veloce Aspettate Aspettate Come stai? Andiamo, andiamo Oddio Pensavo che ero cascato Per un attimo Quanto bisogna salire ancora Comunque Sei minuti e trenta Di barcurito Anzi Barcurito a massima Felicità Alberto è rimasto trollato Perché? E io? Oh no, regà Bisogna attivare il turbo alla fine Ciao io, carete Perché non l'ho lasciato aiuto il giocatore in coda No, no, regà Aspettate, aspettate Pure Alberto sta rimanendo trollato Aspettate un attimo Giavi Cosa, regà? No, 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 regà Stiamo a sbagliare Stiamo a sbagliare Aspettate un attimo Che questo inizio Per attaccare il guard È un po' strano Ok, ok Ci siamo, regà State tranquilli Allora, quando saliamo su Dobbiamo attivare il turbo, regà Però è veramente strano, eh Mamma mia È arrabbiato il suino, regà Che c'ha? Ok, andiamo, andiamo E adesso dobbiamo fare un po' di strada E quello è il problema Ok, adesso stiamo salendo su Poi dobbiamo attivare il turbo No, 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 no Aspettate Non adesso Quando si rigira la visuale, regà? Eh, no, non ci capisco niente Che dite? Attiviamo il turbo? Non adesso Adesso, adesso Ok, ok Credo che vada bene, eh Quando finisce No, non ho più il turbo Mi serve, regà Qui dovevamo attivare il turbo Ci arrivi? Ci arrivi sui? Sì, credo che sì Il boost c'è Mamma mia Ci siamo Ok Ah, dobbiamo proseguire Per il bel parkurito, regà Non è finito Ok Andiamo comunque Per il bel parkurito di Sergio, regà Niente male questa gara Ok Dove? Dritti? Sì, sì Credo di sì Sì, sì, sì Ci siamo Rigiriamoci Ma perché distrutta la macchina mia? Lo so, regà C'è la sirena, sì Qua cosa bisogna fare? Ok Andare semplicemente così Si può tagliare qua? Sì, sì Carina questa parte che ha messo con i cordoli, regà Ha ridata veramente bene questa gara Dai, veloce, veloce Andiamo per un po' di sirena Ok E qua, regà Non possiamo rigirarci bene, vero? Credo di no Leviamo sta sirena, regà Che dà fastidio Allora, tu Andiamo di qua Finita questa parte? Adesso c'è tipo un loop, regà Vediamo un po' Diciamo che non abbiamo tre parti uguali Però la gara è fantastica Ok Siamo vivi E respawniamo, respawniamo Adesso vediamo cosa c'è Dai, rapido, rapido Bello, veloce Ho visto che dobbiamo fare tipo un loop, regà Vediamo bene Ok Sì, sì Ci siamo Formula 1 di nuovo Dove dobbiamo andare? Ah, ok Il check sta qui Ok, ok Ma No, una miniatura qua Regà non ci sta Proprio bene, eh La dovevo fare lì all'inizio Bene Ha attaccato veramente bene lo slide Respawniamo, respawniamo Allora Ah, ha messo il check ultra dritto Fantastico Ah, viene bene lo slide comunque Eh, sì, sì Ok Ecco cosa abbiamo di bello Senti, prima sparo Ah, non posso spararmi le miniature in prima persona Non credo, eh Ok E qui? Oh mio Dio, oh mio Dio Siamo vivi Andiamo Merga, pure una miniatura qua Sarebbe carina Allora facciamo attenzione Ok Siamo vivi Bello, veloce, sui Dove siamo, dove siamo, dove siamo? Oh Primero Comunque sia Se vi è piaciuta questa gara F1 estrema Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate nel mio secondo canale Big Pork E nel mio terzo canale One Pork E noi ci becchiamo al prossimo video Bello Allora facciamo un po' di più